in questa puntata il consiglio della toscana conferma mazzeo presidente toscana 2050 equilibrio uomo natura e tecnologia mostra l'inferno di dante di bartolini il consiglio regionale della toscana confermato antonio mazzeo come presidente dell'assemblea in occasione del voto previsto per la metà della legislatura al primo turno di votazione mazzeo ha ottenuto 36 preferenze su un totale di 40 votanti i consiglieri regionali francesco gazzetti e marco stella sono stati eletti segretari questori del consiglio regionale l'introduzione di due nuovi membri dell'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa era prevista dall'ultima modifica dello statuto regionale sento un forte carico di responsabilità quando l'assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo con serietà con impegno con rigore con passione insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza che ringrazio noi davanti a noi abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati usciamo dalla terribile pandemia i primi mesi difficili portati avanti da tutti con grande serietà lo scoppio della guerra con tutto quello che ha significato sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra regione la toscana è sempre stata una terra d'accoglienza una terra aperta inclusiva e vuole continuare ad esserlo io mi sono preso un compito che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa assemblea legislativa essere sempre più la casa delle toscane dei toscani un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa le leggi che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e cittadine toscane e la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura aspra quando serve io sarò garante di questo voglio essere come ho fatto fino ad oggi e spero di poter fare meglio il presidente di tutte le toscane di tutti i toscani vi assicuro che oggi dopo questa votazione ero ancora più emozionato perché quando ci si conosce poco si può dare fiducia così anche a scatola vuota dopo due anni e mezzo di lavoro il risultato di oggi apre anche come dire un significato ha un significato quello di aver creato con tutte le forze politiche un rapporto vero schietto leale sincero perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è offrire ai cittadini e cittadini della toscana servizi migliori non so se sempre siamo stati all'altezza ma so che continueremo a andare avanti in questa direzione con spirito di responsabilità e di servizio far parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale della toscana è un grande onore ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno siamo al servizio dei toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del consiglio regionale facendo gioco di squadra quando va fatto in effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie che sono state poi apreste dall'aula mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio e al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore con la massima trasparenza segnale importante che consolida una maggioranza solida a livello regionale ringrazio le colleghe e i colleghi del partito democratico per la fiducia che mi hanno concesso ringrazio il collega sguanci si consolida la maggioranza di centrosinistra nel governo della nostra regione si consolida e si rafforza il governo gianni nel contempo la mia figura di carattere istituzionale a garanzia di tutto il consiglio regionale di tutti i cittadini toscani quindi la capacità di incidere nei processi dell'aula nella presidenza dell'aula in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo presidente anche lui riconfermato e nel contempo ovviamente conferma del mio ruolo in questo momento anche di guida politica d'italia viva a livello regionale nel consiglio regionale a sostegno ovviamente di una maggioranza che si consolida con questo voto che compatta quindi questa nostra coalizione primo incontro pubblico di Toscana 2050 uno sguardo per anticipare il futuro il presidente Mazzeo si è presentato come ologramma l'obiettivo è realizzare in poco meno di 30 anni una Toscana non del probabile conseguenza diretta di quello che è oggi bensì una regione del possibile per le sue innate straordinarie capacità e una Toscana del desiderabile per quella attenzione all'equità e alla giustizia che ha reso grande la nostra storia ma noi abbiamo concentrato l'attività su alcuni tavoli tematici e oggi ne tratteremo quattro che riguardano il tema della città il tema della salute il tema della cultura e il tema del lavoro che sono chiaramente collegati fra loro e che pongono una serie di interrogativi ma anche grandi opportunità grandi scelte se vogliamo è un po' quella che si chiama in ingegneria ma anche nelle industrie un'analisi SWOT cioè SWOT vuol dire punti di forza W vuol dire punti di debolezza ho opportunità e ti minacce trezza e così un po' si lavora per immaginare da dove partiamo e dove soprattutto potremmo andare la politica o la capacità di anticipare il progresso di saperlo governare oppure resta indietro allora compito delle istituzioni è proprio questo oggi racconteremo la toscana del 2050 attraverso gli occhi delle bimbe e dei bimbi della nostra regione attraverso gli occhi dell'intelligenza artificiale attraverso gli occhi e le parole di giovannini che ci racconterà da esperto del settore come la toscana si sta muovendo compito nostro è quello di continuare questo lavoro nei prossimi mesi di farlo tutti insieme con l'obiettivo di rendere a fine legislatura disponibile alle cittadine e cittadini della toscana un indirizzo della strada da perseguire perché la politica ha il compito sempre di anticipare il progresso stiamo cercando di immaginare delle traiettorie è un lavoro che è partito più o meno un anno fa durerà ancora un anno oggi è un primo medio termine in cui cercheremo diciamo di dare alcune suggestioni quello che credo sia importante sottolineare sono gli obiettivi di questo nostro lavoro perché chiaramente tutti noi credo desideriamo una toscana in cui ci possa essere un benessere diffuso e condiviso e questi sono diciamo su questa base noi tracciamo le traiettorie su driver essenziali per la nostra comunità che sono legati al mondo del lavoro che sono legati al mondo della salute ma sono legati chiaramente anche all'ambiente allo sviluppo dei territori delle città quindi oggi faremo un po il punto per poi mettere le premesse per un lavoro che spero ci porterà ad avere tutti quanti un'idea un po più chiara del futuro ma questo è un lavoro importante per verificare quello che può essere una toscana che si rinnova che però mantiene le proprie tradizioni capire quello che sarà il mix fra tecnologia innovazione che ruolo giocherà l'uomo e il grande estro che comunque toscani hanno avuto nella storia capire come la grande eterogeneità il grande il grande dinamismo la grande capacità di innovare che hanno avuto i nostri antenati sia sulle arti sia sull'agricoltura sia ovviamente su tutti gli elementi di ingegno che hanno fatto grande la toscana hanno differenziata nel mondo come poter innovare questa grande capacità dentro un contesto che sta cambiando e che ruolo giocherà anche l'uomo dentro queste relazioni quindi dobbiamo anche disegnare una società dove l'uomo sia protagonista perché lo è sempre stato fin dall'epoca rinascimentale fin dal tutto quello che ha prodotto grande innovazione quindi è un mix di pensiero che proviamo a fare privo diciamo di una immediatezza e questo è forse il compito più bello che si è dato l'ufficio di presidenza in questi due anni e mezzo provare a pensare indipendentemente dal presente cose che potrebbero essere importanti per tutti noi che magari sono giuste e che magari potrebbero portare anche chi verrà dopo di noi ad assumere funzioni decisionali importanti per mantenere i grandi e blasoni che oggi ha la toscana non soltanto nel contesto europeo ma mondiale i numeri sono sono abbastanza chiari nel 2050 avremo più o meno 200 mila abitanti in meno l'età media delle persone si allungherà molto avremo un'età media intorno ai 50 51 anni soprattutto la speranza di vita che è una delle conquiste più importanti degli ultimi anni gli ultimi decenni la speranza di vita arriva ormai si avvicinerà ai 90 anni pensate che nel dopoguerra era 65 anni nel 51 era 65 anni arriverà a circa 90 anni quindi abbiamo guadagnato qualcosa come quasi 25 anni di vita e sono 25 anni di vita migliore anche perché perché si vive meglio non è che si vive solo più a lungo si vive anche anche molto meglio certo questo ha due facce la faccia positiva con detto ora si vive più a lungo e quindi è una conquista la faccia negativa è che ci sono molti anziani rispetto ai giovani anche qui alcuni numeri sono indicativi nel 51 quindi dopo guerra 10 giovani 4 5 anziani un secolo dopo 10 giovani 31 anziani capite come si è rovesciato completamente il quadro nel 2050 noi avremo la colonia spaziale sulla luna avremo la colonia spaziale su marte è prevista per la fine degli anni 30 del di di questo millennio ma sicuramente nel 2050 ancora da un punto di vista turistico e attrattivo la toscana sarà sempre una regina questo è il mio desiderata ma sono convinto che in realtà la toscana da qui al 2050 potrà costruire quel livello di modernizzazione infrastrutturale di accoglienza di sistemazione del rapporto fra tecnologie e qualità della vita che sicuramente renderà ancora questa regione un punto di riferimento nel mondo io penso che quello che noi dobbiamo costruire in questo percorso è una grande validità sul piano ambientale rendendo autosufficiente da un punto di vista energetico la nostra regione con geotermia solare con quello che è il contesto delle energie rinnovabili anche l'idroelettrico l'eolico e contemporaneamente molto vicina per tenere le aree interne in rapporto diretto con le conurbazioni urbane più intense ecco quindi le reti ferroviarie tramviarie di metro tram stradali che possano tenere sempre vicina tutta una toscana che poi attraverso la copertura da un punto di vista della rete della bull della rete ultralarga o della wireless e quindi del collegamento radiomobile possa vedere sempre la possibilità di essere in ogni momento in ogni luogo con il valore dell'uomo e quindi con una cultura e un modo di relazionarsi che possa vedere arricchire negli anni la civiltà e il senso e il patrimonio dei valori inaugurata la mostra di arturo bartolini che compie un viaggio nel mondo dell'inferno dantesco i lavori del giovane autore è nato nel 2003 sono caratterizzati da un tratto fumettistico e da stile personalissimo arturo predilige l'uso di acquerelli pastelli pennelli e presenta una serie di tavole in cui per lo più ha rielaborato materiale di studio scolastico unite ad altri lavori ispirati al suo quotidiano e ai suoi interessi arturo bartolini è una mostra che arriva dritta dritta al cuore i suoi colori vivaci il suo messaggio forte un inno alla bellezza dell'arte e il quadro che verrà donato all'assemblea legislativa chiede un mondo di pace un mondo più sostenibile un mondo in cui ognuno di noi deve provare a vivere meglio e le sue opere che ritraggono paesaggi ma anche persone danno il senso di quanta creatività e quanta libertà si crei attraverso l'arte grazie davvero arturo perché oggi stai scuotendo le nostre coscienze e questo qua è un mio lavoro che avevo fatto sulla mia rileborazione quando era a scuola sul tema della pace l'ho chiamata i have a dream e questo lavoro consiste di un disegno di arcobaleni dove scivolano allegri degli omini fatti con diverse teste di simboli di pace ma anche di simboli di capogrossi il primo l'avevo fatto a scuola semplice a pastelli ma il secondo l'ho fatto un pochino più grande anche con la giunta di alcuni animali ho deciso di lasciare al comune della regione proprio questo disegno perché esprime pace speranza e rispetto per tutte le creature viventi ed è anche un messaggio di pace per tutte queste cose per contrastare la sua forza che contro qualcosa che ha a che fare con la guerra che purtroppo non molto l'altro anno da qui c'è ancora